Innanzitutto cosa pensate dei Maneskin visto che stanno diventando famosi in tutto il mondo? Sono dei grandi, sound internazionale, bravissimi! Ma noi abbiamo qui i nostri Maneskin, i Dick Dick che ci stupiranno con il brano dei Maneskin, vai! Siamo fuori di testa alle mani, mi pensi da loro! Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, su porna mi ro esto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla, su porna mi ro esto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla Tu portami dove sta bella, che mi manca l'aria Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro Siamo fuori di testa, ma diversi da loro Andiamo fuori di testa, ma diversi da loro Grandi! 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 Grazie Dick Dick per aver giocato con noi Si è stato uguali, uguali, uguali Allora, prima di lasciarci vorrei fare solo un piccolo omaggio A una persona che non c'è più Abbiamo parlato dei cugini di campagna Volevo mandare un bacio per la scomparsa di Marco Occhetti L'ex voce dei cugini di campagna che pochi giorni fa ci ha lasciato Quindi un applauso E io ovviamente ringrazio i miei ospiti Dick Dick, la Mario per essere stata con noi Come sempre, la mia fantastica cricca Che è la mia veramente spina dorsale del programma Io vi do appuntamento a domani alle 15 e 15 Mi raccomando mamma, domani orario normale Ciao, a domani